Eccoci qua amici della rubrica scommettiamo che le prendiamo. Allora, sabato di calcio europeo, di campionati nazionali e andiamo a analizzare un attimino quali possono essere le partite interessanti da giocare. Allora, nel campionato italiano abbiamo il derby Ligure dove vedo l'1x, quindi Spezia e Sampdoria 1x. Poi abbiamo Bologna e Empoli, anche qui mi giocherei un 1x. Poi abbiamo in Serie B il Venezia che mi gioca in casa col Pisa e metto anche qui 1x. Poi spostandomi in Inghilterra mi gioco il Tottenham vincente in casa con l'Eister. Mentre in Germania vado a giocare Middormund vincente con lo Schalke 04. Ok? Poi altre situazioni, queste sono solo dei suggerimenti. Poi ampliamo un attimino le partite per magari farci un bel sistemino. E possiamo provare a giocarci Torino-Sassuolo, entrambe le squadre segnano. E sempre in Serie B la regina che fa 1x con il Cittadella. In Inghilterra sfruttiamo la forza nuova del campionato che è il Newcastle e gli diamo la vittoria contro il Bormund. E infine in Spagna diamo fiducia a Gattuso che gioca in casa con il Celta. Ok? Quindi abbiamo giocato 1, 2, 3, 4, 5, 9 partite. Belle 9 partite. Potete fare dei sistemini, potete giocare 4, 5 partite oppure addirittura cercare il grande colpo con tutte e 9. I suggerimenti sono questi. Per oggi è tutto. Scommettiamo che la prendiamo. Alla prossima ragazzi. Grazie. 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 Grazie.